Andrucci e Andrucci sono al primo traverso, Solzai è partito dalla corsia di boxe, dai 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 dai, è in carica per Andrucci questa nuova parte di Solzai, la pilota portoghese che in questo momento va dal terzo traverso. E via, quarto, oh no, che è vero, che si muore, via, via, via.